L'arte è morta No, veramente. Perché spendere ore ed ore ad imparare come disegnare o dipingere quando basta chiedere a un bot su Discord e avere un risultato in pochi secondi? La cosa è un po' più complessa di così Di recente abbiamo visto delle intelligenze artificiali veramente impressionanti ma sono un po' limitate e non potranno mai sostituire un vero artista Tutto quello che stanno a riprodurre lo hanno imparato guardando milioni e milioni di esempi umani e non sono in grado di creare qualcosa di completamente nuovo dal nulla Quindi no, l'arte non è morta È stata solamente resa più accessibile a tutti, da siti, app o addirittura filtri su TikTok Di questo ne ho parlato meglio in un video sul mio canale YouTube Il link lo trovi sempre nell'abbio